Sì, finalmente tre punti con una delle top squadre, insomma, ecco, siamo sempre finiti al tie-break con le altre, qualcuno ha vinto, qualcuno ha perso, stasera ti dico molto bene, molto bene un po' ovunque siamo riusciti a contenere, loro sono una squadra molto ben coperta in tutti i ruoli, insomma, che dire, bravi noi dopo un primo set giocato punto a punto dove forse abbiamo concesso qualcosina di troppo, e siamo stati bravi poi a rientrare in partita dal secondo set, concedere sempre meno, insomma, avanti così, ci servivano tre punti in casa, insomma, contro una delle prime quattro e alla grande, avanti così. Il nostro obiettivo adesso è quello di portare a casa più punti possibile, sappiamo che ancora tutto si può fare, nel senso che adesso tante delle nostre concorrenti hanno ancora degli scontri diretti da giocare, noi abbiamo forse rispetto a loro un calendario un pochino più tranquillo, sulla carta, chiaramente, perché poi sappiamo benissimo che nessuno regala punti, è un campionato molto competitivo, a partire soprattutto dalla settimana prossima a Cantù che in casa loro sicuramente saranno a caccia di punti e dovremo vendere cara alla pelle, però, insomma, ti dico, per noi adesso l'importante è pensare partita dopo partita, portare a casa più punti possibile, cercare il miglior piazzamento possibile per poter arrivare al playoff nella miglior forma.